Abbiamo evidenziato l'immane lavoro con condizioni economiche durissime che stiamo facendo sul tema ambientale dalla depurazione ai rifiuti all'igiene urbana sia come città di Napoli e come città metropolitana e abbiamo chiesto anche alla Commissione parlamentare alcuni impegni per consentire ai comuni di avere ancora più potenza per garantire servizi ai nostri concittadini. Anche l'eliminazione di gabbie normative, i comuni ormai le risorse ci sperano fino a un certo punto perché non ci danno nulla e hanno tagliato ormai tutto, ma certe volte sono sufficienti anche eliminare degli orpelli normativi, delle gabbie e dei vincoli, abbiamo fatto l'esempio di Asia, ed a media 59 anni potremmo assumere e non ci fanno assumere. Se non assumiamo personale non possiamo andare alla velocità che vorremmo.